Ben trovati da TG della mobilità, grandi eventi in città, oggi e domani doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, dalle 7 scatta la deviazione per le linee 51, 75, 85, 87, 117, quest'ultima sarà sospesa dalle 14, deviata da questa mattina anche la linea C3. Le ulteriori deviazioni sono previste nel pomeriggio anche per la chiusura di Via del Teatro Marcello, Via Petroselli, Bocca della Verità, Via L'Aventino e Via di San Gregorio e oggi dalle 7 alle 21 chiusa anche Via dei Fori Imperiali per i due eventi del concerto, oggi e domani dalle 21 chiuderà anche la stazione Circo Massimo della Metropolitana.